Ops, raga, no, raga, mi hanno partito dalla partita, raga, dalla battaglia, dai, raga, però... Stiamo a nonostante della battaglia, però in attività. Ma dai, raga mia che mi ha fatto uscire tante volte, ecco... Perché devo mettere... Vabbè, perché... Jesse, Jesse, perché? Ma cosa, ma il mappo! Ma che noppo! Ma cosa che esce? Ma, please, rientra! Ok, raga, con... Oh! Ok! No, una, non lo so, raga, che ha... 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 Haémisala... 20... Ha... Giragato 25, raga, la vittoria... è sicurata questa, eh! SEBC switch? Sì, ah... Hon... Non so perché, eh... Blunt Oddio Ai 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 Nonno deve non ci provare Cavolo Ma poi io ma Ci vado non mi interessa Allora Era caduta la riga Era caduta la riga Giuro Era caduta la riga Ho preso la mia Perché era Non sono immobilizzato No delle rotte No no però Sto spai che l'ha rotta Vittoria Vai demon Assedio Vole bro Dovrei seguire Raga dai Ok Ricercate E fute Poi Forse abbiamo Window No 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 Chiudo il piasso, devi chiudere tu, che puoi chiamare, chiudo il piasso. Ma ne fate però video canale, sono tutta a quest'ora. Dai, chiudete. Devi chiudere la roma, perché poi ci chiudiamo tutti. Raga, devi chiudere tu. Vai raga, se lo dice lui. Vai raga. Ciao. 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 Vabbè però loro perché stanno, vabbè sono stacca, non c'è, non ci riusciamo No 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 però così non ci può, no così però non ci può No dai, un'altra perdita abbiamo perso dai, la sua è troppo difficile Mi sa che abbiamo bisogno di Damian, però credo che lui abbia perso, sicuro sicuro Raga, è bello Ok Ok Eh no voi ve lo scordate adesso Raga se la perdiamo ma rabbio ho un botto Un robot direlo tu e lo sconfigo subito, così Si va bene così Sì 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 Ok Vai raga Il livello 20 Ragazzi Non lo batteranno mai Ora e nemmai Credo speriamo Oh mia raga Non lo batterò Lei Lei No Oh Dio Che problema Non è Dove è il tempo Questa è il tempo Questa è il tempo Questa è il tempo Ehm Ehm, è bene, è una bambina, raga vabbè dai, però se lo siamo già da bene, raga, c'è. No, 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 ma cos'è sta mafia? Oh, raga, vero? Ehm, cavolo, 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 è difficile. Ah, dai, ma dove sono? No, vabbè, vabbè, però così non si può, abbiamo perso. Ehm, sì, qui è, uuuuh. Ehm, né, niente raga, è stato bello, ho visto, se lo possiamo fare, raga, né, niente. però però apriamo le casse peccato apriamo ste casse che ne esempiamo per trovare qualche bel brawler nei miei sogni le troviamo dai ah niente e non piano si apre niente si ero manco un bonus eh l'ho richiamato il bonus vabbè raga il vino dice qui ciao ciao